Adesso riprende, sì, adesso sta riprendendo, è partito il tempo, 39, basta, bene, bene, sono contento, adesso sto riprendendo Suor Devota, una carissima persona, una suora qui del convento, la quale ci ha assistito in questo grande progetto, le due centrali sono state ormai montate, una ha funzionato per prima qui all'interno del convento e la seconda è stata montata e terminata ieri sera, per la prima volta ha dato energia e ha illuminato il centro e la maternità e quindi da ieri non usano più il petrolio con le conseguenze per l'organismo che noi tutti sappiamo, abbiamo brindato ieri sera, abbiamo cenato, abbiamo anche bevuto una bottiglia di Civas che Suor Devota ci ha gentilmente così offerto e adesso quindi il convento funziona tutto con l'energia solare, non solo il convento ma anche la maternità. A novembre poi io ritornerò qua, gliel'ho promesso e monterò il terzo gruppo per il centro nutrizionale, è vero? Sì. È Suor Devota, sì. Poi ho conosciuto Suor Lucia e Suor Desiree che sono delle persone fantastiche proprio, quindi ci siamo arricchiti venendo qua, abbiamo imparato tante cose e praticamente abbiamo installato dei sistemi ad alta tecnologia là dove si muore di fame e di malattie, questa è la grande cosa. Comunque da Indimmi a voi Italia.